Un panettone al gelato e che gelato, magari poco conosciuto ma eccellente, quello di Moglia, il paese del Mantovano devastato dal terremoto. Panettone d'estate? L'idea del gastronauta Davide Paolini fa percorrere chilometri ai cultori del dolce milanese, soprattutto se si abbina a gelati dai gusti insoliti a Moglia, la cittadina del basso Mantovano devastata dal terremoto di maggio. Abbiamo voglia di festeggiare, di ritrovarci anche per cose belle, non solo per quello che ci ha successo e quindi, insomma, qualsiasi occasione va bene. C'è chi usa l'olio di oliva al posto del burro, chi è fedele alla tradizione. Il burro chiaramente si scioglie a un punto di diffusione di 30 gradi e quindi assorbe tutti i profumi della frutta e tutti i profumi che emana la fragranza del panettone. A livello di lievitazione bisogna stare un po' più attenti, però ci si riesce molto bene. Un prodotto fresco a livello di gelato, a livello di frutta sta assolutamente bene. Bene, il panettone è buono anche da solo, accompagnato da un buon bicchiere di vino, dolce possibilmente. La prova del gusto è comunque superata. È una cosa eccezionale, buonissima, a parte che il panettone è buono. Non capisco perché non d'estate. Col gelato, perché così è molto più fresco, però va mangiato. È un prodotto che si conosce più all'estero che in Italia, d'estate. È come mangiare la brioche col gelato, quindi... Insomma, panettone tutto l'anno.